I lavori del vecchio locale sono ripartiti? No, ancora non è, perché passeranno dieci anni se tutto va bene, prima delle giornalità. Quindi hai deciso di spostarti per adesso, per i prossimi dieci anni. Se voglio mangiare, tiravamo la famiglia per forza, per questo l'unico soluzione. Adesso stiamo qui con una sala bella piena. Ringrazio tutti quanti che sono noi amici e parenti, mi danno una mano per ripartire. Si lavora bene? Norcia ci viene il turismo? Il turismo può, non è tanto, ma i paesani, i cittadini vengono molto spesso, andiamo avanti così. Se non riapre la galleria definitivamente... L'hanno riaperta però? Sì, a tempo. Mattina, pranzo e cena. Così non fa bene. Se ne riapre la galleria definitivamente la galleria viene sicuramente più. Hanno detto che forse prossima settimana, tra dieci giorni, è aperta quella per Castelluccio. Definitivamente, come strada. Però... Vabbè, in compenso, tu ti sei messo ad investire sul territorio e sei già aperto. Ci sono altri ristoranti che purtroppo appoggiandosi alla regione ancora aspettano, come tanti altri commercianti del centro commerciale. Anche come lei e per tutti. Va bene. Grazie a te per questa festa. Grazie a tutti. Ringrazio a tutti. Belli e brutti. Un applauso per Domenico. Mani occupate. Mani occupate, lui si è mani occupate. Mani occupate, lui. Mani occupate, non può battere le mani. Posso non battere. Questo è mezzo prosciutto.